Asia Nucetelli ha detto basta le punturine di botox e acido ialuronico. La figlia di Antonella Mosetti è tornata per la prima volta in tv dopo molti mesi e da Barbara D'Urso si è presentata con un viso diverso da quello che ormai ci eravamo abituati a conoscere. La 22enne sembrerebbe infatti aver smesso di andare con regolarità dal medico estetico per fare punturine di vario genere e ora appare come una ragazza della sua età. A farlo notare è stata proprio la D'Urso che ha detto ad Asia ti trovo meglio molto meglio di quando ti sparavi un po' di cose in faccia adesso sei molto più carina quindi continua così ti tengo lontana da chi ti fa le cose estetiche. Nel corso della trasmissione Asia ha poi rivelato che dopo le sue nozze saltate con l'ex Gianfranco Battistini ha già ritrovato l'amore. Il fortunato è il rapper Astol al secolo Pasquale Giannetti.